Che cosa succede? Che a volte se ci sono dei creditori, che possono essere privati o pubblici, le persone possono anche decidere di separarsi, anche se formalmente poi non lo fanno. E si separano, così vengono divisi i patrimoni, magari poi eliminano anche le proprie proprietà e quindi non sono più aggredibili dai creditori. Altro che fino a che morte non vi separi, a Treviso la regola è finché c'è convenienza stiamo sposati, ma al primo accenno di debiti o di traballamenti economici ognuno per la sua strada. Almeno formalmente, perché poi quando nessuno ci vede, ma anche no, la nostra vita di coppia continuiamo a farla tranquillamente. Scappatoia è che la crisi è accentuato al punto da non capire se il picco delle separazioni di questi ultimi anni si è aumentato per litigiosità o per dissesti finanziari. Fatto sta che oramai anche gli avvocati, come dire, ci hanno fatto l'occhio. Cos'è che scatta spesso in queste condizioni? È perché magari negli atti di separazione dove noi dobbiamo scrivere che uno dei due coniugi deve lasciare la casa familiare. Spesso magari i coniugi dicono sì, lo faremo con calma e mettono un tempo indeterminato nel sciogliere la comunione e la convivenza. Sta a noi anche avvocati essere chiari e far capire al cliente che non si deve frodare la legge. Grazie. 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 Grazie.